Il razzo Delta IV è decollato dalla base militare di Cape Canaveral per portare in orbita un satellite per le telecomunicazioni con il contributo dell'Australia. Il satellite di tipo Wideband Global Setcom assicura le trasmissioni tra Marina, Aeronautica, Forze di Terra e il Dipartimento di Stato Americano alla Casa Bianca, oltre da una serie di partner internazionali.